Sono Del Rosso Vincenzo, da qualche mese lavoro con il Bari, mi occupo soprattutto del progetto tecnico delle Academy e sin dall'inizio abbiamo, concordemente con Marcello Sansonetti, proceduto verso l'approfondimento del lavoro tecnico. Il progetto Academy crea un ponte di contatto fra quelle che sono le società pure giovanili della zona attorno a Bari, ma nel nostro caso anche delle altre province della regione e da quest'anno anche, credo, con qualche società che proviene addirittura dalla Basilicata e dalla Calabria. Noi produciamo programmi, idee e sostegno alle iniziative delle società pure e loro ci mettono nelle condizioni di poter usufruire del loro lavoro in termini di, si spera, di calciatori che possano far parte del nostro settore giovanile. Oggi più che mai lavorare sul territorio significa tantissimo. Se vedi quello che sta accadendo in tutte le società sportive, calcistiche italiane, dove la preponderanza di giocatori stranieri oramai raggiunge livelli elevatissimi, quasi intollerabili, sembrerebbe che non ci sia calcio prodotto da calciatori italiani e che i nostri giovani si dedichino ad altri sport. Invece le realtà con le quali noi stiamo prendendo contatto ci dicono che il desiderio di fare calcio nei giovani è elevatissimo e se facciamo attenzione, ed è poi l'idea di fondo che abbiamo, se facciamo attenzione a ciò che si muove attorno a noi, potremo anche scoprire che ci sono dei calciatori, che produciamo ancora calciatori e Bari in passato ne ha prodotti anche di importantissimi. Credo nel calcio italiano e riscoprire che la rivoluzione copernicana è avvenuta da un sacco di tempo. Bisogna ritornare a guardarsi attorno e non a pensare di essere il centro del mondo e di concentrarsi solo sui propri problemi. Vorrei fare un in bocca al lupo a tutti gli operatori del settore calcio. Negli ultimi anni non sempre il calcio italiano è emerso per valori positivi. Diciamo dal punto di vista tecnico, veniamo da due eliminazioni nei campionati mondiali. A livello giovanile sembra che davvero si produca molto meno rispetto al passato. I giocatori di altissimo livello ce ne sono, ma sono qualitativamente inferiori. Mi auguro che tutte le società possano interfacciarsi meglio con tutto ciò che si muove a livello giovanile. Creare un movimento che possa dare le possibilità per riemergere, avendo una figura di calciatore diversa. Una figura di calciatore diversa dallo stereotipo del calciatore italiano che non sempre è apprezzato o è apprezzabile. Grazie. 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 Grazie.